Ciao ragazzi, sono Steve Marieni, Feater Supervisor di Aspria Arbor Club Milano, oggi siamo qui perché voglio fare di voi degli attori di film d'azione. Faremo un circuito di cardio agility dove praticamente ho messo insieme sei esercizi da fare a circuito, alla fine di ogni circuito riposeremo 30 secondi e lo faremo per tre volte. In questo primo esercizio facciamo il mountain climber sia in versione normale sia in versione diagonale con le ginocchia in diagonale. Cerchiamo di mantenere una buona velocità e lo facciamo per 30 secondi. Passiamo subito alla seconda stazione fatta da questi coni dove faremo uno slalom per 30 secondi. Passiamo subito alla terza stazione dove potete vedere che c'è un bosu, questo perché faremo un esercizio dove ci sarà sicuramente un esercizio di resistenza muscolare ma dove la componente fondamentale è l'equilibrio, che è una componente fondamentale per tutti quelli che sono gli attori di action. Ecco che passiamo alla quarta stazione dove abbiamo dei manovri da 12 kg e faremo un esercizio che si chiama clean and press. Lo faremo per 10 ripetizioni. È un esercizio che coinvolge total body, che coinvolge muscolarmente sia le gambe facendo lo squat, bicipiti e spalle. Subito dopo il clean and press, di corsa ci dirigiamo verso il box jump e come ogni attore di azione che si rispetti ci salteremo sopra e subito dopo scenderemo per dirigerci verso la battle rope. Siamo arrivati alla sesta e ultima stazione, la battle rope, ma dopo di che farete 30 secondi e farete ancora due round per un totale di tre round. In questa maniera sarete pronti per essere i prossimi action hero. yeah. This is it. This is it. Yeah, this is it.